Ho sempre vissuto a New York. Ma ora sono bloccata nel bel mezzo del nulla senza la mia famiglia. Ciao, sono Jackie Howard. Mi sono trasferita da New York. Jackie, io so che venire qui per te è difficile e non posso nemmeno immaginare che cosa tu stia passando. Ci prenderemo cura di lei. Fa parte della famiglia ora. Jackie è atterrata nel paradiso dei ragazzi. Sei la ragazza più fortunata di tutta la scuola. Non vuoi farle sapere chi sei? Tanto lo scoprirà. Dovrai imparare a sopportare le battute, non credi? Altrimenti non sopravviverà mai. Jackie, domani sarà più facile. Voglio farti vedere una cosa. Via! Quella Jackie si sta prendendo tutti i ragazzi disponibili. Auguri New York. Sta' attenta. Non so cosa ci sia per me a New York. Non so neanche se appartengo a questo posto. Sembra che tu stia passando uno di quei giorni in cui vorresti scappare. No, sono confusa. Quindi ti interessa Alex o preferisci Cole? Come ti sembra la piccola città? Tu sei davvero felice? Questo posto è quasi l'unico sulla Terra. È speciale. La famiglia non è sempre vivina da testi. Sei geloso? Basta! Non voglio spezzare ancora il cuore di mio fratello, ma non riesco a morirti. Non voglio spezzare ancora il cuore di mio fratello, ma non riesco a morire di mio fratello, ma non riesco a morire di mio fratello, ma non riesco a morire di mio fratello. Grazie!